Musica In arriva di 6 ottobre 2020 vi parlo dal ristorante La Loggia del piazzale Michelangelo a Firenze dove è in corso uno dei nostri consueti salotti. Questa settimana dopo aver parlato di cultura, di arte, di poesia ci caliamo nella realtà quotidiana, quella di oggi perché da oggi entra in vigore un decreto legge che ci riporta ai tempi bui della quarantena, cioè ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Per parlare di questi e dei tanti problemi non solo economici ma anche psicologici che questa delibera porta con sé abbiamo invitato la dottoressa Emanuela Muriana. La professoressa Muriana è psicologo psicoterapeuta del Centro di Terapia Strategica di Firenze. Studio ovviamente in Firenze, Viale Mazzini. Intanto le vorrei chiedere, scusi la mia ignoranza, di cosa si occupa la terapia strategica. Terapia breve strategica, buonasera a tutti intanto. Buonasera a lei. È un modello di intervento che è recente, diciamo dagli ultimi 40 anni, nato negli Stati Uniti e sviluppato in maniera approfondita e clinica qui in Italia sotto la direzione del professor Giorgio Nardone. Si occupa prevalentemente di, in clinica, di interrompere la persistenza dei problemi psicopatologici. Professoressa, da oggi, dopo un periodo breve purtroppo di normalità, in Italia gli italiani rientrano nella anormalità. Che contraccolpi psicologici porterà? Ovviamente siamo tanti milioni e ognuno avrà una reazione diversa. Ma a livello di sensazioni di massa, quali ripercussioni può avere questo nuovo lockdown? Avevamo valutato le ripercussioni nella risposta psicologica di sofferenza nel primo lockdown e avevamo anche valutato che una ripresa della vita avrebbe limitato l'ingresso in una condizione psicopatologica. Avevamo anche rimandato certi nostri pazienti a valutare l'intervento clinico, magari facendo passare l'estate per vedere se il disagio si manteneva oppure no. Certo, in alcune persone più fragili questo non è avvenuto, c'è stato bisogno immediatamente di intervento. La maggior parte delle persone ha avuto una ripresa spontanea proprio perché c'è stata questa parentesi estiva che insomma... Ha ridato speranza, ha ridato la vita, ha ridato la vita, la speranza proprio. L'uomo è un animale sociale, vive di relazione e nella relazione trova la propria identità, sia per contrasto che per imitazione, per cooperazione. Quali sono state le patologie più diffuse, soprattutto la quarantena, stare per molte persone anche da sole in casa per due o tre mesi, i single o le persone anziane magari non hanno avuto la possibilità di riunirsi anche temporaneamente ad altre persone o ai parenti più vicini? Allora, diciamo che sono due ordini di problemi. Uno è uno stato di sofferenza che non necessariamente corrisponde a uno stato clinico. Lo stato clinico è uno stato impedente e chi era in uno stato di sofferenza ha avuto una possibilità appunto di riprendersi nell'estate perché si è riaccesa la speranza. Laddove invece si erano già accesi e strutturati dei quadri psicopatologici erano prevalentemente di ordine legate alla paura, all'emozione della paura. Quindi abbiamo tutte le patofobie, quindi la paura di ammalarsi e questo discorso del virus ha fatto saltare il concetto di patofobia perché il virus nessuno lo vede, nessuno era in grado di diagnosticarlo. Non c'erano le cure, quindi ha moltiplicato in maniera esponenziale la paura di contagiare o di ammalarsi di qualcosa che poi non sarebbe stato curabile. Quindi la patofobia a volte diventava ipocondria e a volte sono arrivati casi anche di strutture deliranti addirittura, quindi una patologia superiore legata alla paura di ammalarsi. Molti, soprattutto le persone molto anziane, hanno paragonato questo periodo con i tempi bui del passaggio della guerra nel 44 per quanto riguarda la nostra città e la nostra regione. Però lì la morte si vedeva, se c'erano bombardamenti il giorno dopo si vedevano le case distrutte, le persone morte per la strada, si vedeva il sangue. Questa è una morte in colore perché noi abbiamo solo la percezione di queste morti attraverso i numeri, ma in faccia non la vediamo. Come invece succedeva in tempo di guerra, è successo in maniera più ridotta per quanto riguarda le vittime durante l'alluvione di Firenze. E questo è proprio l'elemento che crea angoscia, non più paura ma angoscia, quindi un sentimento di paura controllato che lascia la persona privo di capacità di narrazione di quello che sta succedendo, proprio perché non c'è la possibilità di definirla. Chi è in grado di raccontarsi una storia perché semplicemente assume i dati televisivi, statistici che abbiamo come qualcosa di razionalizzabile, sono persone che possono andare in sofferenza, in preoccupazione, ma non sviluppano quadri psicopatologici. Per tornare agli anziani, paradossalmente sono i più resilienti. Io le volevo fare una domanda più strutturata. Delle tre fasce d'età, diciamo adolescenti, persone di mezza età e anziani, qual è quella che ha più sofferto di questa cosa e come hanno reagito le varie generazioni? Ora cerchiamo di fare una massificazione di sentimenti che poi invece sono molto personali e ognuno reagisce secondo la propria cultura, la propria identità, diciamo. Allora, partendo dal presupposto che l'uomo ha una grande capacità di adattamento in generale, gli adolescenti sono quelli che hanno sofferto, chi ha bisogno di grande compagnia, ma c'è anche chi ha tratto vantaggio dal lockdown. Quindi le difficoltà che magari vivevano nella vita di relazione o anche nella vita scolastica, il fatto di viverla in casa è stato, come dire, un elemento che gli ha permesso di sentirsi adeguati alla situazione, cosa che magari prima non erano. Gli anziani, dicevo, sono i più resilienti perché sono più capaci, hanno una storia dietro, hanno attraversato difficoltà che noi non abbiamo vissuto. Hanno vissuto la solitudine, questo sì, hanno vissuto una solitudine importante e tuttora la soffrono perché pensate che nelle residenze degli anziani non c'è possibilità ancora di contatto fisico con gli anziani e lì diventa abbandono, veramente una condizione penosa. La invece parte clinica, quella che vediamo noi, che è numericamente e statisticamente elevata, sono persone dai 25 ai 55 anni. Lei è titolare della rubrica di psicologia nel mensile a Toscana Nuova, al quale ci segnalano, sono già arrivate diverse lettere, credo arriveranno anche alla nostra redazione di incontri con l'arte, di persone che espongono i loro casi, le loro problematiche e chiedono da lei dei suggerimenti. Se lei è d'accordo, noi vorremmo prolungare questo incontro con una serie di incontri magari che ci consentano di smaltire anche queste istanze, queste richieste, perché a volte dei problemi che sembrano insommontabili, con l'aiuto e gli strumenti di chi ci può aiutare, possono essere magari anche agevolmente superati. Sono d'accordo, vi spiegherò nei dettagli come si forma e come si mantiene un problema psicopatologico. Per ora però diamo un consiglio, vorrei che lei rassicurasse, chi ci sta vedendo in questo momento, di come affrontare da oggi e da domani, per chi sta guardando oggi il nostro servizio, la quotidianità. Allora, più una persona combatte in questa fase, più soffrirà. Quindi questa è una condizione nella quale noi abbiamo uno stratagemma cinese, che viene dalla saggetta cinese, che si chiama Vincere senza combattere. Questa è una fase in cui siamo tra parentesi e quindi dobbiamo aspettare che il tempo passi senza, come dire, cercare noi delle soluzioni, perché non ce le abbiamo. L'unica soluzione che abbiamo è adeguarsi a una condizione di ristrettezze e quindi di comportamenti che ormai sono noti a tutti, quindi mascherina, distanziamento e il lavaggio delle mani, e mettersi, come dire, in pausa e limitare il nostro combattimento mentale, perché il combattere mentalmente porterà a fattori di stress che possono risolversi una volta che finiscono queste restrizioni, o se no a fattori in cui questo stress non passa più perché ha passato soglia e quindi diventa un disturbo. Allora, se lei ce lo consente, però vorremmo anche dare in sovrimpressione il recapito del vostro centro, perché magari qualcuno potrebbe avere pudore a scrivere il suo stato attuale, potrebbe avere delle inibizioni e magari lo agevoleremo indirizzandolo direttamente al vostro centro. Se lei è d'accordo, noi chiuderemo ora. Prima però dell'ultima domanda, perché ora ho rischiato di dimenticarla, credo sia importante questo. Come reagiscono a questa pandemia i credenti e non credenti? Ora, una domanda che esigerebbe una risposta, credo, molto lunga. No, facciamola breve. Diciamo che credere è un'esigenza dell'uomo e questo io credo che sia la natura. La spiegazione sta nel fatto che in tutte le parti del mondo c'è una religione in cui l'uomo, come dire, si riconosce, perché l'aldilà è qualcosa che, come la pandemia, non abbiamo una razionalizzazione dell'aldilà e quindi se c'è qualcosa che ci può dare una narrazione dell'aldilà diventa assolutamente prezioso. All'opposto ci sono adesso persone, questa è la nostra cultura, in cui si fa una nuova fede, che è la fede della scienza. Anche questa è altrettanto rischiosa, perché la scienza davvero, chi la conosce, sa che non è definitiva e quindi c'è bisogno di tempo per confermare, ma anche per disconfermare ciò che sappiamo. Quindi, certo, chi ha una fede sarà più capace di resistere, in qualche modo. Chi ha fede nella scienza lo stesso sarà più capace di resistere. Tutti e due andremo incontro a delle delusioni possibili. Allora, professoressa, se lei è d'accordo, io direi di proseguire questi nostri colloqui qui alla loggia, al piazzale Michelangelo. Potremmo fare benissimo queste interviste nella vostra sede, nel vostro centro, ma credo che questo skyline alle nostre spalle sia di conforto ai telespettatori, perché ci sono millenni di storie alle nostre spalle e a Firenze sono passate la guerra, la peste, l'alluvione e tante tragedie. La città ha saputo rialzarsi, Fiorentini lo stesso e quindi pensiamo e speriamo che anche questa grande avversità possa essere superata. Grazie.